Ok, non è più il caso di accettare tutta questa merda, è il caso di prendere posizione e di dire ok, basta, non è più una nostra responsabilità, prendetevi le vostre responsabilità. Maria Bernardini Pace, prego. Allora, io non vedo le donne oppresse, non vedo le donne che accettano, noi donne, ha parlato benissimo Mendolicchio e ha spiegato esattamente la situazione, noi donne abbiamo combattuto, abbiamo fatto di tutto, abbiamo raggiunto degli importanti risultati, adesso è chiaro che ognuna di noi se la deve vedere con la vita, col mondo, con le persone, ognuna di noi deve conquistarsi il rispetto perché non è che il rispetto ce lo regalano, io non rispetto una borseggiatrice, un ladro, uno struparatore, io rispetto le persone che meritano il rispetto, non è un diritto. E cosa vuol dire noi donne dobbiamo portare in piazza e aiutare gli uomini a liberarsi della misoginia? Ma ognuno si occupi di se stesso, è chiaro che noi genitori e tutti i genitori devono educare bene maschi e femmine, in ogni modo, anche prima a conquistarsi il rispetto e poi a dare, avere rispetto per gli altri. Ma questo atteggiamento è così aggressivo. È Gino Cecchettino, il padre di Giulia, a dire che gli uomini devono sentirsi parte del problema, il cambiamento parte dagli uomini. È vero, ma è vero, è giusto. Sì, sì, ma è diverso da quello che stava dicendo questa ragazza. Un conto è sentirsi parte del problema e un conto voler cambiare. Certamente con delle donne così aggressive contro gli uomini e con questo atteggiamento non credo che si ottengano dei risultati. I risultati si ottengono prima di tutto se tutte le famiglie, padri e madri, sanno educare, secondo me allo stesso modo, figlie e figli. Anche se dobbiamo tenere presente che l'uguaglianza giuridica è un conto, ma non sono uguali uomini e donne. Ci sono le differenze e le differenze devono essere sottolineate. Francesca, vuoi dire qualcosa? Perché avere questo atteggiamento... Prego, prego.